Marco Lombardi, presidente della FIP Molise, un quadrangolare internazionale di pallaganestro, evento di straordinaria importanza per il Molise. Assolutamente sì, una società che ha organizzato questo evento con tanti sacrifici, la cestistica che va ringraziata perché consente a tutto il territorio di avere per un lungo tempo, circa 20 giorni, la Nazionale Under 18, ovviamente guidata da Andrea Capobianco che oltre ad essere il nostro conterraneo e promotore di tanti eventi, nonché responsabile di tanti settori regionali, ma in questo momento vive veramente dei momenti fantastici, dettati dai risultati ottenuti sul campo, con grande dedizione al lavoro, con grande sacrificio e siamo onorati di avere questa Nazionale che sicuramente consentirà ai tecnici, agli allievi, ai giocatori e agli addetti ai lavori di capire come poter lavorare per migliorarsi e per ottenere dei risultati anche quando a volte non si ha un grande talento innato ma costruito. Cestistica e Cus Molise, il binomio funziona? Il binomio funziona perché probabilmente è il modo corretto di operare per migliorarsi, dando grande risalto ai risultati sportivi ma anche alla formazione, all'educazione e anche alla cultura alla quale i ragazzi devono oggi attingere per poter vivere nel sociale e nel quotidiano. Dando uno sguardo al mondo della pallacanestro molisana, movimento sicuramente in crescita, d'accordo? Assolutamente sì, un movimento in crescita soprattutto dal punto di vista giovanile che è questo l'obiettivo che ci avevamo prefissati diversi anni fa e piano piano si stanno cominciando a raccogliere un po' i frutti di quelle grandi semine che sono state fatte negli anni precedenti con ovviamente anche società di rilievo con Benafro che fa il campionato di Serie B nazionale con anche qualche altra sorpresa che ci sarà quest'anno nel basket in rosa, quindi diciamo una regione in salute.